Lulic trova il corridoio per Milinkovic, Savic che la mette dentro, Immobile la controlla in area di rigore, vuole girarsi, non ce la fa, poi la conclusione che favorisce Marusic sul fondo. Luisa Alberto la mette dentro, poi Immobile, altra deviazione, Immobile chiede con un braccio, uno contro uno di Dzeko con Acerbi che temporeggia, Dzeko lo porta in area di rigore, poi rientra Dzeko con il destro, Stracoscia, occasione anche della parte opposta. La dentro si fa vedere Pastore in area di rigore, cerca la porta, grande risposta ancora di Stracoscia. Milinkovic riesce a conquistare il pallone, occhio al tiro, poi cerca l'apertura per Immobile, la porta sul destro, Immobile cerca la porta e non la trova. Si fa vedere Dzeko che accompagna dalla parte opposta, cercato con l'esterno, è trovato, c'è fallo su e Sciarawi, dentro, pallone di prima, Florenzi salvataggio miracoloso. Colpo di Nassani, Inzonzi e De Rossi, non trova da un metro la porta e soprattutto la palla. Ecco il traversone e manca incredibilmente il tempo della battuta Stefano e Sciarawi. Dzeko prova a colpire di testa, la palla è pericolosa, Stracoscia anticipato, di tacco Lorenzo Pelleghini. 1-0, ancora di tacco la Roma. Fazio, errore clamoroso che favorisce Immobile in area di rigore. Ciro, Immobile, 1-1. Alexander, colero, 2-1. Calcio di punizione, Fazio, Federico, Fazio, 3-1. Arbitro dice che può abbassare, manda tutti sotto la doccia. Nel derby di Roma, Roma batte Lazio, 3-1.